Vorrei poter viaggiare più spesso, comprare la casa dei miei sogni, lasciare il mio lavoro, portare la mia famiglia in un resort a 5 stelle, andare a fare surf agli Hawaii, fare una crociera nel Mediterraneo, visitare Machu Picchu. È tempo di smettere di desiderare e di iniziare a sperimentare. Perché sei stato appena invitato in un club di viaggi e lifestyle che ti consente di evitare gli enormi rivenditori di viaggi online e di prenotare viaggi a prezzi e l'ingrosso esclusivi. Come membro farei parte di una comunità globale di appassionati di viaggi che stanno esplorando il mondo in un modo che non immaginavano fosse possibile. Navigare verso isole esotiche, visitare le meraviglie del mondo, fare escursioni sulle splendide montagne, sorvolare i mari blu cristallini con il paracadute o tuffarsi dentro. Le possibilità sono infinite. Inoltre, ogni volta che prenoti un viaggio, sarà ricompensato con crediti viaggio da utilizzare come contanti per la tua prossima vacanza. E semplicemente condividendo questo video e invitando altre persone a risparmiare denaro e viaggiare più spesso, puoi guadagnare un reddito aggiuntivo e persino viaggiare per il mondo gratuitamente. Quindi, se sei pronto a portare il tuo stile di vita a livello successivo, contatta la persona che ha condiviso questo video con te per saperne di più. Perché, dopo tutto, cos'è la vita se non vissuta? Grazie. Grazie a tutti.